buongiorno a tutti benvenuti toro grande protagonista a piazza affari e finalmente anche sui mercati americani ieri dopo la bce e qua questa è la situazione tecnica del nostro fuzi mib che ritraccia questa mattina un pochino rispetto ai massimi che sono stati toccati ieri ben oltre 27 mila punti questa mattina meno 0 70 26 mila 980 punti prese di profitto che ci stanno dopo la forte salita di ieri noi stessi ieri abbiamo liquidato altre due posizioni cnh colpito il target di metà posizione poi sul ritracciamento siamo usciti stoppando l'altra metà usciti in stop profit da saipem per le rubriche multiday e quindi se abbiamo un portafoglio un pochino più leggero rispetto alle sedute precedenti è un solo nuovo buy supposte la situazione ancora vede la possibilità nella seconda parte del mese di una correzione verso i 26 mila non è ancora da escludere e stringiamo gli stopp e lasciamo correre poi per il resto io concentrerò la mia operatività soprattutto su finché non sarà smaltito l'ipercomprato di breve soprattutto nel trading intraday la novità rispetto a quello che ci siamo raccontati fino ad oggi è appunto dei mercati americani se i mercati americani ci siamo detti non finché non ci sarà il punto di svolta finché non romperanno le resistenze bla 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 e non non sarà il caso di rischiare di andare long invece dopo aver rotto la trendline ribassista anche il nasdaq ha accelerato ha rotto questa che era il segnale di conferma la resistenza statica che avevo indicato più volte 12,250 salvo clamorosi pullback odierni vedete che è arrivato a contatto con l'ulteriore resistenza già che è segnato in rosso quindi non sono resistenze tracciate adesso ma se guardate le dirette sono livelli già tracciati da tempo questo che è il massimo relativo precedente l'ulteriore resistenza qua dei 12.889 punti che è questo massimo della settimana del 12 settembre guarda caso è arrivato proprio lì prima del ritracciamento che sta facendo comunque rottura di trendline accelerazione sopra la prima resistenza ha sentito la seconda però la svolta dopo questa sorta di doppio minimo c'è stata con qualche mese di ritardo rispetto alla seconda metà di ottobre ancora qui c'è il rischio come si diceva di un pullback quindi un ritorno sui 12,280 12,300 ci potrebbe stare però il peggio oramai anche sul nasdaq dovrebbe essere superato per cui anche sull'equity americano dove abbiamo un po' sofferto nelle rubriche di trading multiday a fronte di grossissimi grossi performance sul mercato italiano lì abbiamo ridotto i segnali contenuto un pochino più l'operatività ma adesso si torna a comprare scattano i filtri smetteranno di andare a cercare degli short anche sui titoli tecnologici e si metteranno come già succede dall'italia sull'italia da tre mesi a cercare dei long quindi bene bene siamo tutti più contenti quando si può shortare ma siamo tutti più contenti quando c'è il toro il mercato sale e per quanto riguarda l'S&P 500 stessa cosa rottura di trendline ribassista qua era già più forte rispetto al nasdaq ha rotto il massimo relativo precedente che è questo e quindi anche sull'S&P 500 è arrivata la svolta rialzista bene così poi andiamo a vedere singoli titoli magari vi vado anche a dire i flussi hft da questa mattina dove sono concentrati dalle 9 05 quindi nell'ultima ora dall'apertura telecom saras iveco group intesa san paolo sono i titoli con più flussi in acquisto e in vendita invece cnh ci sono flussi che spingono cnh in vendita seguito da inter pampa e pirelli questo dall'apertura ad oggi quindi flussi nelle prime posizioni c'è intesa san paolo e saras guarda caso sono comunque tra i titoli in cima alle performance saras e tra i primi cinque e anche intesa san paolo migliori titoli della seduta andiamo magari vedere giusto qualcuno di questi titoli intesa san paolo su cui siamo ancora long multi day nella rubrica report daily azioni italia e ha fatto un pullback fatto un ritracciamento ieri con un minimo a 2 virgola 40 50 per poi ripartire al rialzo questa profonda ombra che c'è stata ha chiuso il gap che si era formato un po era nell'aria se ne era parlato ha parlato anche della possibilità di un pullback su intesa san paolo l'ha praticamente concluso con la ricucitura di questo gap e questa mattina stiamo vedendo appunto buoni flussi con il titolo che sta andando a rompere nuovamente i massimi una bella situazione tecnica quella di intesa san paolo con l'obiettivo che raggiungere questo massimo i 2,5 285 e poi in caso di rottura di questo massimo si aspetta la richiusura del gap che si era aperto nel mese di febbraio e bancari se ricordate mi avevo parlato già inizio anno che secondo me i bancari sarebbero stati il il market forse il settore più interessante uno dei più interessanti e anche sugli etf siamo long sulle banche già da diverse sedute dopo averle comprate anche già in precedenza quindi banche in particolar modo sul listino italiano intesa unicredit banco bpm b per sono titoli con maggiore porta relativa vedo che mi avete scritto quindi allora buona venerdì a tutti entrato short in leva su cg intenzione di entrare short su stm dunque andiamo a vedere allora se si tratta di short di breve ci possono stare per il resto io se si tratta di operazioni multiday sapete che io a me non piace mai mettermi contro trend e quasi mai mettermi contro trend per cui insomma sconsiglio short se si tratta di operazioni ad ampio respiro se si tratta di operazioni di breve ok adesso le andiamo a vedere ucg e stm dunque ucg la vediamo subito magari vado anche ad aprire i flussi hft così li vediamo li aggiorniamo direttamente in piattaforma dunque unicredit vediamo prima il grafico eccolo qua ieri ha continuato ad avere flussi hft abbastanza intensi unicredit per cui se ne è parlato più volte che sta sfidando le leggi della fisica perché nonostante il gap nonostante il forte per comprato sta continuando a salire e continua a salire perché appunto ci sono hft che continuano a comprarla e tecnicamente questo iper comprato così forte sconsiglia di aprire posizioni cioè se avete siete flette non avete comprato unicredit fino a questo momento comprarla adesso è sicuramente rischioso e verrebbe la pena attendere un pullback almeno un pullback simile a quello che si è verificato ieri con correzione intraday sotto ai 18 euro comprarla proprio sui massimi è un rischio ripeto se avete intenzione di aprire posizioni multiday dal punto di vista dei flussi nell'ultimo quarto d'ora unicredit continua ad avere comunque anche negli ultimi minuti un po di flussi in acquisto si sono ridotti rispetto rispetto a quello che abbiamo visto ieri nelle ultime sedute però sono l'ultimo quarto d'ora passato in leggero territorio di vendita quindi qualcuno inizia magari a monetizzare però è ancora presto bisogna solitamente attendere un una mezz'oretta per avere conferma della persistenza dei flussi in vendita per il momento rimane vicino ai massimi di giornata quindi se si vuole andare short su unicredit ad esempio attorno a questo massimo sui massimi di giornata l'obiettivo secondo me dovrebbe essere al massimo un pullback verso i 17,55 cioè verso i 17,50 17,60 che sono stati toccati ieri prendere profitto almeno con metà posizione portare subito lo stop a pareggio e lo stop iniziale io lo metterei sopra i massimi di giornata perché non vorrei mai che ci fosse massimi di giornata però ribadisco che secondo me è meglio mettere degli stop abbastanza stretti quindi ad esempio sopra il massimo di giornata STM sì pure qua ci potrebbe stare uno short in tre day quello che non auspico perché io sono ancora long noi l'abbiamo comprata nella rubrica delle azioni daily a lo dico subito 42,63 e quindi abbiamo monetizzato metà posizione a target lo stop l'abbiamo alzato anche questa mattina abbiamo dato un giro di stop certo è che si è fermata su questa resistenza vedete sono tutti i livelli che avevamo già tracciato e quel livello che avevamo già indicato dei 44,965 quindi se qualcuno non era long e quindi voleva aprire una posizione short questa è la resistenza che ho indicato ieri mattina mi pare o ieri o ieri l'altro e ci sta proprio a ridosso di questa resistenza potete prendere uno short con l'obiettivo della ricucitura di questo gap in direzione dei 44,22 e la possibilità di stopparsi proprio sopra il massimo di ieri quindi operatività speculativa di breve che ha senso poi vediamo se ci sono altre domande no direi di no sì sì intraday benissimo intraday ci sta ci stanno tutti e due come short se avete qualche altra domanda volentieri altrimenti vedremo che cosa accadrà oggi con i non farm payroll data vado a mostrarvi invece prima di lasciarci per questa mattina quello che vi dicevo abbiamo i flussi dalle 10 di questa mattina quindi Saras titolo più comprato dalle 10 dalle macchinette seguito da poste Iveco Group che ha una buona persistenza di flussi questa mattina e poi invece nelle posizioni in fondo abbiamo Interpump Amplifon Telecom Italia di Asorin e Unicredit la troviamo invece circa a metà strada di territorio negativo quindi qualche qualche vendita inizia ad affacciarsi anche su Unicredit dunque vediamo che mi avete scritto se si può vedere dunque Stellantis e Mediolanum tra l'altro Stellantis ieri se ricordate vi avevo detto che era un dato long di Stellantis con l'HFT flow scanner indicandovi anche il target che era sulla resistenza nel corso della giornata il target è stato colpito e la resistenza che avevo indicato dove prendere profitto e dove sono uscito era su questo massimo 14,88 se non ricordo male quindi un po' prima di questo massimo poi Stellantis è anche andata oltre è andata a cercare la resistenza successiva che è questa dove si può tracciare questa trend line ribassista del mese di agosto del 2022 ecco questo massimo è stato rotto ieri la chiusura è stata confermata in close questa mattina aperto debole per prese di profitto vedremo se troverà la forza nuovamente di allungare oltre la resistenza io ero un pochino scettico che potesse farcela rompere questa resistenza qua per il momento ieri il segnale c'è stato e quindi il prossimo target dovrebbe essere per Stellantis i 15,44 sul massimo successivo che è questo del 30 marzo del 2022 l'altro titolo ah scusatemi siamo fermi su HFT non ho cambiato la condivisione scusatemi quindi rifaccio brevemente rivedere Stellantis con la rottura ieri in 3 day del primo livello di resistenza che era questo 16 agosto del 2022 abbiamo aperto quest'oggi un po' sotto ma stanno tornando un po' di acquisti e stringendo il grafico vedete la resistenza successiva che è questa già tracciata 15,516 29 marzo 29 30 marzo del 2022 quindi il prossimo obiettivo di Stellantis primo supporto invece primo fondamentale supporto in ottica multi day è questo qua sui 13,76 questo tracciato in aggiungo poi andiamo a vedere invece mi avete scritto anche di un altro titolo da osservare che volevate vedere oltre Stellantis ah banca Mediolanum andiamo a vedere banca Mediolanum come siamo messi eccoci qua banca Mediolanum ipercomprato di breve la prima cosa che salta all'occhio con un valore di RSI molto alto e con la resistenza che è qua tracciata in blu che è stata raggiunta i 9,05 che corrisponde a quest'area di resistenza qui e subito dopo abbiamo i 9,30 quindi vedremo se innanzitutto riuscirà a superare i 9 euro confermando la rottura in close e poi i 9,30 diventerebbe il target successivo visto l'ipercomprato raggiunti i 9 io ho una correzione anche su banca Mediolanum la metterei la metterei in conto un pullback quindi se siete flat non anticiperei la rottura dei 9 se invece state cavalcando il trend beh vabbè qua basta alzare gradualmente minimo dopo minimo il vostro training stop primo supporto decisivo in ottica di medio e questo qua tracciato sul grafico 8,60 allora mi chiedete Seri e Geox andiamo a vedere Seri e Geox la prendiamo però ovviamente non sul FuziMib Seri Industrial ha svoltato in ottica di medio periodo dopo questo doppio minimo che ha fatto sui 5 euro non ha una forza relativa degna di nota quindi non è forte come tanti altri titoli che abbiamo visto nel listino bancari in particolar modo ha questa resistenza ancora con cui fare i conti i 7,09 quindi per chi è entrato long lo stop profit è da alzare da gestire eventualmente sotto i 6 euro come area di resistenza di medio periodo questa come area di supporto che scuso supporto di breve invece 6,42 qua tra l'altro c'era stato un Key Reversal ribassista il solito Key Reversal che ritorna sempre vedete e che aveva annunciato questa correzione rispetto ai massimi se invece non avete posizioni ecco io se non avete posizioni aperte attenderei la rottura dei 7 vedete dove c'è questa resistenza qua e non distante anche dai massimi che sono stati toccati il 23 gennaio del 2023 prima di andare long l'altro titolo invece che è stato chiesto è di guardare è Geox Geox in ipercomprato di breve anche qui quindi il rapporto rischio rendimento che peggiora qua non ha fatto un Key Reversal ribassista ma ci è mancato poco in ipercomprato siamo a ridosso della prima resistenza attorno all'euro che precede la seconda più sull'1.04 e poi c'è questa che è veramente impegnativa come resistenza sull'1.07 quindi io lo vedo più un titolo da short sinceramente Geox su cui rigirarsi long di nuovamente nel caso in cui rompesse ma possibilmente dopo aver smaltito un po' di ipercomprato quota 1 euro in questo momento lo vedo finché non rompe l'euro e non smaltisce un po' di ipercomprato lo vedo quasi più da short anzi più da short se non avete ulteriori requisiti vi condividerò la registrazione tra poco e vi auguro una nuova giornata una buona giornata noi ci sentiremo la prossima settimana direi lunedì e lunedì andremo a fare anche quella puntata dedicata in particolar modo al trading automatico di cui vi avevo già fatto cenno questa settimana viste le tante richieste che ci sono di parlare delle piattaforme come si fa il trading automatico eccetera eccetera quindi vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata e a lunedì che ci sono